si si portano via al banco ma fotografa fotografa fai da barba ho già fatto, sto facendo il video grazie a tutti non la vedo da qua, devo fare la fotobabba si, già fatta cazzo ce l'hanno fatta fotografa, fotografa tutti e due mamma sta facendo un video grava, grava occhio perché si sparano Martina non sparano madonna e tremarella sembravano rumori troppo forti troppo forti